Cari amici, buona giornata. Accogliamo il Signore nella nostra vita. Accogliamo anche oggi la testimonianza di Santa Maria Goretti, la sua forza nella virtù e la sua misericordia nel perdonare chi gli aveva fatto del male. Ecco il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato quel muto cominciò a parlare e le folle prese da stupore dicevano non si è mai vista una cosa simile in Israele ma i farisei dicevano egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnandole le loro sinagoge, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. L'ultimo dei dieci miracoli raccontati da Matteo nei capitoli 8 e 9 riguarda un muto indemoniato che viene guarito, che ritorna a parlare. Essere muto è una malattia che richiama l'azione del diavolo, il quale blocca la capacità di parlare. Ricordiamo Zaccaria, muto perché non aveva creduto. Anche gli avversari di Gesù, per esempio quando Gesù gli interroga con che autorità Giovanni Battista faceva il suo battesimo, rimangono muti perché non vogliono riconoscere la verità. Il mutismo del demonio è la incapacità di dire la verità, di dare un giudizio vero sulle cose, di riconoscere i segni evidenti della presenza di Dio o del demonio. Quanto mutismo c'è? Per esempio noi adesso con evidenza critichiamo il silenzio del passato di fronte ad azioni vergognose. Pensiamo per esempio al silenzio di fronte allo sterminio degli ebrei. Gli stati sono stati in silenzio ad assistere a questa opera e adesso noi li critichiamo. Ma dovremmo domandarci oggi c'è ancora mutismo di fronte a diritti calpestati dei poveri, alla strage dell'aborto, al stavolgimento della realtà della famiglia, a un mondo finanziario che costringe sempre di più i poveri alla sofferenza. De Battesimo si dice questa frase apriti e cioè noi invochiamo che la nostra bocca si apra alla parola vera, la parola suscitata dallo spirito, al giudizio sulle cose illuminato dalla verità del Signore Gesù. L'incontro con Gesù ci apre alla parola vera che edifica, non la parola che distrugge, che è in grado di formulare dei giudizi e semmai invece ci libera dal pregiudizio. Questa azione che Gesù compie, libera un muto, come ogni sua azione viene accolta in due maniere, c'è lo stupore. Le folle prese da stupore dicevano non si è mai vista una cosa simile in Israele, ma c'è anche un giudizio negativo. I farisei dicono egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Ecco dove il diavolo agisce, nell'incapacità di dire la verità, di essere mossi del pregiudizio. Domenica scorsa abbiamo sentito il pregiudizio degli abitanti di Nazareth che di fronte alla predicazione di Gesù reagiscono con la loro mentalità e a partire dalla loro conoscenza di Gesù e figlio di Maria e il falegname, conosciamo i suoi parenti, si bloccano e non riconoscono l'azione potente di Gesù come profeta in mezzo a loro. Di fronte a questo pregiudizio Gesù non risponde, risponderà più avanti perché l'accusa di essere indemoniato ritorna ancora nel Vangelo. Ma la presenza della duplice reazione quella della folla che si stupisce e quella dei farisei che dicono è mosso dal diavolo ci dice appunto del pericolo che corriamo sempre di fronte alle cose, cioè di dare un giudizio sbagliato. Quello che poi la sapienza popolare dice non c'è cieco peggiore di chi non vuol vedere o non c'è sordo peggiore di chi non vuol sentire. Donaci, Signore, uno spirito di verità. aiutaci a non essere muti, cioè a dare giudizi sulla realtà, a manifestarli, ma liberaci dal pregiudizio, dalla incapacità di riconoscere con sincerità ciò che è vero, ciò che tu riveli. Gesù non interviene, però il Vangelo ci racconta come Gesù reagisce al pregiudizio. Qualche volta il pregiudizio e il giudizio cattivo ci bloccano, ci impediscono di continuare una buona azione. Non è così per Gesù. Il testo del Vangelo dice che egli continua nella sua missione. Gli dicono tu scacci i demoni per opera del principe e dei demoni e Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia, ogni infermità. Che cosa rende Gesù libero? Che cosa rende Gesù non condizionabile dal pregiudizio? È la compassione per la gente. Vedendo le folle le sentì compassione. Erano come pecole, senza pastore, stanche e sfinite. Gesù sente la sofferenza degli altri. Questo vuol dire avere la compassione. Ed è questa la forza di Gesù che gli fa superare ogni ostacolo, per cui non viene bloccato dal pregiudizio. La gente ha bisogno di lui. Sono stanche e sfinite. Sono come pecore senza pastore. È vero, era vero ai tempi di Gesù, quanto è vero anche oggi. Quanta stanchezza, quanta sfinitezza c'è in mezzo alla gente. Per questo Gesù chiede collaboratori. Operai per il Regno. Gli operai per il Regno non sono semplici volontari che regalano del tempo libero. Non sono caratteri che amano organizzare, che amano l'attività. Sono persone che grazie al dono del Padre sentono compassione. Vedono, percepiscono il bisogno che c'è tra la folla. C'è tra la fulla del nostro tempo. C'è bisogno di persone che si avvicinano per insegnare, per annunciare che Dio è il Re, per aiutare a guarire, a sanare le ferite. Chiediamo al Signore un cuore veramente compassionevole e non soffochiamo i desideri di bene che lo Spirito suscita in noi. Buona giornata.